e dico, ciao, guarda che c'è, ehi, stai, è l'Aubertino, vieni, vieni, bene, e come stai? Cosa fai, non mi riprendere per cortesia, dai che sono uno schifo, dai, facciamo un selfie? Cos'è il selfie? Sì lo so, lo saprò, lo saprai? Ma che dici, no? Non mi piaccio l'Aubertino, per piacere Non ti piaci? No, ma se hai 40 anni Appunto, 40 più gli altri Ma se hai 40 anni, facciamo il selfie Certo, facciamo Noi ci facciamo un selfie, Gabriella Non vuoi che ci facciamo un selfie? Ecco qua, ecco qua un selfie, vai Hai visto? Ci siamo arrivati Il culo alla balena Oh